Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch di soldi per la 1.41 come vi avevo promesso in live ho cercato un glitch, è un po' complicato da fare, si può fare da soli o con l'aiuto di un amico che magari può risultare un po' più semplice, per fare questo glitch avete bisogno di un cargo bob, un centro operativo e un garage pieno con delle elegi quindi andiamo nel garage, prendiamo la elegi, usciamo fuori dal garage e sostituiamo questa elegi con cui siamo usciti fuori quindi nel mio caso la quinta elegi quindi vado a sostituire questo veicolo guardate guardate sto impedito no il gioco sta infazzito ragazzi oddio questo è guercio proprio vabbè comunque andiamo a sostituire la quinta elegi ragazzi le stranezze capitano tutte a me nel frattempo quando avete sostituito la quinta elegi che cosa dovete fare? entrare nel centro operativo mobile dovete salire sulla vostra custom mi raccomando ragazzi duplicate custom e non altre auto andate in warstock selezionate il terzo modulo pratica e dovete selezionare il vuoto ragazzi il modulo vuoto quindi andate su restaura insomma acquista e quando andate per acquistare dovete essere rapidissimi a premere triangoli in maniera tale che si crei questa situazione ragazzi come state vedendo in mappa la mia auto è buggata nel centro operativo mobile vi faccio vedere c'è il centro operativo mobile con l'iconina dell'auto buggata dentro come state vedendo quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? una volta fatto ciò ci allontaniamo da questa zona ci allontaniamo un pochino da questa zona quel tanto che basta insomma non è che dobbiamo andare in culo al mondo entriamo in un'attività rockstar entriamo in una gara stante o in una qualunque attività rockstar e appena ci darà la possibilità di premere cerchio usciremo dall'attività rockstar in maniera tale che l'auto respawni affianco a noi allora quando l'auto respawna intorno a noi affianco a noi è frizzata ragazzi adesso vi faccio vedere non ce la fa utilizzare quindi per sfrizzare l'auto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere il cargo bob come vi ho fatto vedere all'inizio video quindi prendiamo il cargo bob agganciamo l'auto ragazzi per questo ho detto se avete un amico che vi dà una mano è ancora meglio altrimenti lo potete fare tranquillamente da soli io ho un po' di difficoltà con i volatili qui con i veicoli volanti però l'abbiamo fatto a questo punto l'auto è sfrizzata diciamo possiamo utilizzarla una volta agganciata con il cargo bob quindi prenderemo la nostra auto l'andremo a mettere in garage esattamente nella posizione in cui abbiamo tirato fuori la elegy guarda sti cacacazzi mamma mia che rottura eccone un altro va bene comunque andiamo a mettere l'auto al quinto posto oh li sappia tutti io oggi dove abbiamo messo la elegy e la sostituiamo con la elegy ragazzi ci darà garage pieno una volta fatto questo passaggio ragazzi che cosa dovete fare sostituite l'auto e andate a ripristinare il modulo nel centro operativo mobile quindi adesso uscirò e andrò a ripristinare il modulo nel centro operativo mobile ragazzi andremo a ricomprare il nostro modulo con diciamo con il deposito veicoli e a questo punto siamo pronti per ripetere nuovamente il glitch ragazzi come avete visto da warstock questo è l'aggiornamento 1.40 ci sono gli aerei del nuovo dlc il video non è un fake quindi vedete un po' voi se riuscite a farlo detto questo ragazzi vi faccio vedere l'altra l'altra progenitaly che è dentro il deposito ragazzi buon glitch per il momento c'è questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti